Sono Cristiano Troferri, sono il direttore commerciale di Euromet. Euromet è 30 anni, questo è anche il trentesimo anno che esponiamo qui al Pro Light & Sound ed è quest'anno il trentesimo anno di attività che festeggiamo. La fiera del Pro Light & Sound barra Music Mess è un costante appuntamento in cui Euromet è da sempre protagonista in quanto esportato in più di 67 paesi in tutto il mondo diventa un punto di incontro tra noi e i nostri partner. Diciamo che abbiamo notato purtroppo una vistosa carenza della clientela italiana rispetto agli altri anni, ma non solo, italiana, spagnola, greca. Ci siamo presi delle belle soddisfazioni in quanto abbiamo avuto nuovi contatti con nuovi paesi in cui purtroppo ancora oggi non abbiamo la distribuzione, ma potremmo averla molto breve. Se posso fare un appunto alla fiera, il numero uno è che secondo noi quattro giorni, soprattutto la giornata di sabato, resta inutile. È capibile con Music Mess, ma Pro Light & Sound secondo me sarebbe meglio un aspicio che durasse fino al venerdì o fare come Ise, martedì, mercoledì e giovedì, quindi tre giorni e perché no riducendo anche i costi visto che un giorno in meno non lo facciamo. E seconda cosa, una fiera come questa che è della tecnologia alla fine, il servizio, purtroppo il servizio Wi-Fi che ormai è diventato come l'elettricità 30 anni fa se mancava era perduto, purtroppo non funziona. Funziona sporadicamente in alcuni spazi, ma dove deve funzionare non funziona. Questa è un po' una pecca che dovrebbe essere risolta. Grazie a tutti e buona serata.